Tra qua è arrivato il cattivo, nooo, ci ha scoperto e ha spaccato tutto il muro, aiuto, intanto Dr. Pill è andato ad affrontarlo, ok intanto un altro filmato, che succede? Nooo! Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Luke su Smiling X Zero, dove il gioco si è aggiornato e hanno aggiunto la seconda parte, dove finalmente possiamo salvare i genitori di Ari, vedremo se ce la faremo. Ma prima volevo anche ringraziarvi a tutti voi, perché siamo arrivati a 200 iscritti quest'oggi, tutto merito vostro per il grande supporto che mi avete dato in questi ultimi mesi, siete grandi ragazzi, grazie di cuore. E poi volevo salutare altri iscritti, perché me l'hanno chiesto nei commenti, quindi grandi saluti a Vincenzo Paterna, Lius, Martino, Serena Pardo, Joey Tube, Gattone Tube e le avventure di Tony. Ciao a tutti ragazzi! Tanto qui pure è cambiata la schermata, difficoltà la siamo facile, qua c'è scritto caro diario, dopo un'intera notte con papà alla guida finalmente arriveremo all'hotel, sono molto emozionata, è la prima volta che ci vado, quali avventure mi aspettano questa settimana, muoio dalla voglia di scoprirle. E allora cominciamo, buona visione! Tanto c'è l'introduzione iniziale, dove qua c'è Ari con i suoi genitori che stanno entrando nella stancia numero 8 dell'hotel, dove soggiornano. Ah che bello, andiamo a riposarci dopo una lunga strada che abbiamo fatto con la macchina, ci vuole una bella riposata. Buonanotte genitori, spero che tra poco, quando ci sveglieremo, sarete qui vicino a me. E invece no, sono spariti di nuovo, no! Dove sono i miei padrini, genitori? Bella domanda! Mi sa che il cattivone il signore li ha rapiti, no! Dobbiamo andarli a salvare. Tanto hanno aggiunto questo nuovo tasto dove possiamo correre ragazzi! Tanto qua ci sta il fattolino, ehi ho da fare, vai via! Ok, andiamo via, perché dobbiamo andare a parlare con l'uomo della reception, quindi dimmi qualcosa amico. L'accensore non funziona, dobbiamo aspettare un operario per ripararlo. Non ho visto i tuoi genitori, forse sono al bar, magari. Se vai al bar, date questo allo scrittore, inchiostro da scrittura, ok? Dove ragazzi si è scoperto che questo qui in futuro diventerà il capo cattivo della Smiling X Corp, dove era presente nel primo e secondo capitolo. Quindi, purtroppo, lavoriamo contro questo qui, poi. Tanto stiamo attenti qua, che non sbocchi l'uomo mascherato che ci viene a catturare. Adesso andiamo qui nel bar, dove hanno aggiunto una bella musichetta. In più ci stanno altre persone. Il fattolino, John, serve a una delle migliori bevande rivitalizzanti del bar, la Luca Cola, restituisce l'energia dopo un duro pomeriggio di lavoro. Poi, invece, ci sta un uomo di colore, Dottor Pill. Ciao, ero con i tuoi genitori qualche tempo fa. Delle persone adorabili. A quanto pare, John il cameriere li ha invitati a incontrare una persona adorabile. Ma non so dove siano andati. Intanto qua c'è Krauss, che dobbiamo sporcare. Oh no, mi avete macchiato. Dovrò andare in camera mia. Ok, amico, intanto qua ci sta un diario. Il diario del Dottore H.Seldon, aggiornato al 5 marzo 1955. La prima fase è pronta. Abbiamo appena acquistato un hotel alla periferia di una piccola città vicino a New York. Dato che è ancora in costruzione, nessuno se ne accorgerà se ampliamo un po' di più le strutture. Finalmente il progetto Smiling Project inicia la fase 2. Credo che ci vorrà ancora qualche anno prima che tutto sia installato e pronto. Ma siamo sulla strada giusta. Quindi nel 5 marzo 1955 qualcuno ha comprato questo hotel. Dove come obiettivo voleva creare un progetto, la Smiling. Dove noi sappiamo che questo progetto è una società malvaggia chiamata Smiling X Corp. Intanto qualcuno ha a un lato. Andiamo a controllare Klaus nella stanza numero 7. Adesso parte il fermato dove purtroppo Klaus viene rapito dal signore del male. No, poverazzo. Tanto eccolo qui, aiuto, scappiamo. Tanto siamo velocissimi e non ci può prendere. Tanto c'è un altro fermato dove il cattivo se lo porta via. Poverazzo Klaus. Non ti preoccupare, magari ti salveremo. Tanto devo dirlo all'uomo della reception. E qui dobbiamo prenderci la chiave. Ma questo qui dorme. E quindi non possiamo fare un bel niente. Caro mio, tu vai a dormire. Qua c'è un pazzo che rapisce gente. Questo qui pensa solo a dormire, ma dai. Tanto andiamo nella stanza numero 7. La stanza di Klaus. Perché il nostro caro amico qui dentro aveva la chiave della lavanderia. E noi adesso ci dobbiamo andare. Che si trova qui vicino. Perché dobbiamo prenderci il martello. E ritornare sempre nella stanza numero 7. Così qua possiamo spaccare il muro adesso. Ed entrare. Tanto questo non serve più. Andiamo qui nei cerchi verdi. Sono poi sul pavimento. Facciamo rumore. Adesso dobbiamo prenderci la chiave velocemente. Senza perdere tempo. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Tu continua a dormire. Caro amico mio. E noi ce ne andiamo. Non ti preoccupare. Non fare casa a noi. Che togliamo il disturbo. Tanto dobbiamo andare nella stanza boiler. E dobbiamo stare attenti però. Quindi guardiamoci attorno. Ok. Stanza che si trova qui a fianco. Dove qua ci sta una cassetta degli attrecci. Dovrei chiedere al ragazzo della reception. Forse potrebbe aiutarmi. Eh sì. Perché serve una chiave che non abbiamo. Quindi dobbiamo andare di nuovo. Dove il ragazzo a chiedergli. Se ci può dare la chiave magari. Quindi andiamo subito. Il signore ancora non è sboccato. Meglio così. Speriamo che non sbocca dietro l'angolo. No. Allora andiamo a parlarci. Anche se parliamo poi. Quello lì ci può prendere. Quindi dobbiamo muoverci. Non so cosa succede con il quadro elettrico. Bisogna parlare con il ragazzo della manutenzione. Sta riparando l'accensore. L'unico modo per accedere. Nella stanza barman. Si potrebbe parlare con lui. Per ottenere la chiave della stanza. Ok. Intanto abbiamo preso la Luca Cola. Questa qui ragazzi. La dobbiamo dare al barista. Tanto ci sta il signore. Noi gli stiamo dietro. Sperando che non si giri. Che si accorga di noi. Ovviamente stiamo lontani. A distanza di sicurezza. Se no si potrebbe beccare. Tanto no. Anche lui rapisce ovviamente. Dato che in futuro poi diventerà il capo. Della società malvagia. Questo qui sta rapendo tutti però. Prima Klaus. E adesso il ragazzo della reception. Maledetto. Te la faremo pagare un giorno. Almeno lo spero. Quindi andiamo qua. Questa bella musichetta. Tieni qua amico. Peter Relle. All'interno della mia stanza. C'è un accesso al sistema di conduzione dell'aria. Forse all'interno si può trovare l'operaio. Chiave della stanza. Numero due. Tanto là ci sta il cattivo che è passato. E noi andiamo via. Correndo. Senza guardarci dietro. Dobbiamo scappare. Andiamo con la stanza numero due. Che si trova qui. Ok. Chiudiamo la porta. Tanto vediamo se ci sta qualcosa qui. Eh sì. C'è qualcosa che si illumina qui. Cos'è sta roba? Un altro foglietto del diario. Il diario scritto sempre da dottor H.Seldo. Una giornata il 18 febbraio 2046. I preparativi sono pronti. La macchina è pronta. Credo che sarò in grado di aprire e stabilizzare un portale 3D. ai tempi. Il nostro obiettivo è quello di tornare qualche anno prima dell'inizio della guerra. Che ha messo fine a tutto. Il 26 ottobre 1962. E cambiare la storia. Può sembrare pretencioso. Ma anche se non possiamo evitare il conflitto sappiamo come. Tranne vantaggio. Quindi questi pacci che vogliono costruire questa società. Nel 2046 hanno creato una macchina del tempo. Che possono tornare indietro. Dove vogliono cambiare il passato. La storia. Perché nel 1962 c'è stata una guerra. E loro vogliono cambiarla. Maledetti. Purtroppo ci sono riusciti. Mi sa. Tanto andiamo qua nelle condotte. Adesso il cattivo non dovrebbe venire. Qua il signore. Perché hanno risolto il bug. Che poteva venire qua. Perché lui una volta si era buggato. Mentre io giocavo. E' successo una volta nel primo video. Per fortuna è stato risolto. Tanto qua ci sta l'operaio. Amico mio. Victor. Vediamo se ci dai qualcosa di utile. Questo vecchio motore è così difficile da riparare. E sì amico. Cosa? Un signore oscuro che rapisce le persone? Non so nulla dei tuoi genitori. Ma se volete usare l'accensore. Portatemi il mio cacciavite della cassetta degli attrici. A proposito. Prendi questa chiave che ti servirà. Ok. Prendiamo qua la chiave. Per la cassetta degli attrici. E adesso possiamo andarcene via. Accendiamola qui. Sperando che non sbucchi il cattivone. No. Non c'è. Per fortuna. Allora andiamo da questa parte. Eccolo qui invece. Che ci sta pure seguendo. Ma tanto noi siamo veloci. E quindi amico mio. Non serve a niente che mi insegue. Intanto questo qui già ci ha perso. Se ci allontaniamo troppo. Tanto ancora dai. Allora andiamocene via. Questo qui si è bloccato qui davanti. Dobbiamo muoverci. Andare nella stancia di prima. Così apriamo finalmente la cassetta. Velocemente. Sperando che non sbocchi il cattivone. Ok. Questa è la stancia. Ottimo. Andiamo a rapire qua. Veloce. Intanto viene rapito poi l'operaio. No. Questo qui a tutti sta rapendo. Intanto però gli è caduta una torcia. Che quella lì servirà a noi. Quindi ci andiamo subito. Intanto qua ci sta un cacciavite. Con questo cacciavite dovrei essere in grado di aprire alcuni portelli. E qui interruttore elettrico. Così adesso possiamo riparare il quadro elettrico. Ottimo. Perfetto. Ora c'è energia elettrica. Il motore è in funzione. Finalmente. Ora penso che sarò in grado di attivare le manovelle sui tubi. E quindi adesso dobbiamo premere tutte queste manovelle. Che in tutto sono cinque. Ok. Uno. Veloce. Due. Tre. Quattro. E la fine è l'ultima. Qui cinque. Qui si è aperto un passaggio seretto. Ma per andarci abbiamo bisogno della torcia. Dobbiamo andare a recuperare. Dove il nostro caro povero operaio ha perso. Mentre è stato rapito. Quindi ci andiamo subito. Stanza che si trova qui vicino. Veloce dai. Prima che arriva il paccio. Eccolo qua. Torniamo dove prima. Veloce. Tanto lui qui non può più venire. Per fortuna. Perché è troppo grosso e non può passarci. Almeno lo spero. Siamo di nuovo qui. Che bello questo bellissimo buio. Veramente inquietante con sta musichetta. Questo rumore. Il vento forse. Tanto qua passiamo lo stesso. Veramente è bello. Ok. Tanto qui però dobbiamo algiare. Adesso se no caschiamo giù. Ottimo. Adesso andiamo a recuperare la nostra amatissima torcia. Che si trova di qui. Eccola qui. Tanto qui non possiamo aprire. È ovviamente chiuso. Come al solito. Questa parte non è cambiata. Tanto però la torcia la usiamo. Perché qua è buio. Non vedo niente. Quindi andiamo qui adesso. Qua hanno aggiunto sta parte. Si può aprire qui? No. Non riesco a muoverlo. È arrugginito. Allora scendiamo dai. Qui non possiamo fare nulla. Tanto siamo ritornati nella stanza dell'uomo della reception. Che purtroppo è stato rapito. E adesso chissà che dobbiamo fare. Ah giusto. Adesso mi ricordo. Dobbiamo andare dove eravamo stati prima. Nella stanza dove c'era il passaggio segreto. Dove adesso c'è la parte dove vedremo i nostri genitori. Che purtroppo sono stati rapiti. Quindi eccoci qua adesso. Qui dove c'è la parte finale della vecchia versione. Dove qua c'è il signore. Che ci fa vedere i nostri poveri genitori. Gli fa prendere la scossa elettrica. No. Maledetto. Te la faremo pagare tra poco. Non ti preoccupare. Intanto adesso continua ragazzi. La seconda parte. Vediamo se riusciremo a salvarli veramente. Ok. Dove adesso qua si è aperto un passaggio segreto. Interessante. Tanto non riesco ad abbassarmi. Ah ecco finalmente. Andiamo qua dove siamo finiti in un'altra stanza. Cioè qua ci sta la chiave della stanza numero uno. Ottimo così possiamo aprire. Ok. Tanto qui ho visto qualcosa che luccica. C'è qualcosa qui dentro mi sa. Eh sì un altro diario. Diario del dottor H.Seldon. Aggiornamento 21 febbraio 2046. Oggi è il grande giorno. Ci abbiamo messo un po' più del previsto. Ma tra qualche ora avremo fatto la storia. So che pochi capiranno l'importanza della nostra missione. Ma non ci rinunceremo. Perché il destino del mondo non è un gioco. E quello stesso mondo avrà bisogno di qualcuno che lo guidi verso un suo futuro migliore. Con un sorriso. Secondo questo fioglietto. Intanto vi ho trovato olio per rimuovere la rugine. Perfetto. Tanto posso uscire qua? Sì. Tanto chissà che dobbiamo fare adesso. Forse andiamo a parlare con i nuovi personaggi che sono stati aggiunti. Quella scusa. Per esempio l'uomo di colore. Oppure questo qui. Il fattorino. No questo non serve. Allora tu. Dottor Peele. Accidenti. Sì sta succedendo qualcosa. Ma non possiamo parlare. Incontriamoci nella mia stanza. Sono al numero 6. Ok. Adesso dobbiamo seguirlo. Al dottor Peele. Sperando che non sbocca nessuno. Ok. Non c'è nessuno. Allora muoviamoci. Seguiamolo. Il nostro caro amichetto. Comunque passeggia. Tanto eccolo lì il cattivone. Sta venendo. Dai muoviti. Stancia numero 6 che sarebbe questa? Sì. Entriamo dai. Tanto la porta non si può chiudere purtroppo. Questo è un problema. Intanto parliamo con lui. Credo che qualcuno stia in qualche modo seducendo le persone in questo hotel. Inducendoli. E ha finito. Aiutami a raccogliere abbastanza prove scientifiche per poter creare un antidoto e invertire lo stato. Di queste persone. Ok amico. Vi dobbiamo ritornare dove prima. Andiamo andando qui magari in questo bagno. Ma qui adesso possiamo togliere forse questa botola. Perché abbiamo il cacciavite. Quindi qua possiamo andare adesso. Vediamo un po'. Sì. Stiamo togliendo. Perfetto. Così torniamo nelle condotte. Qua mi sa che dobbiamo raccogliere qualcosa. Delle prove scientifiche ci ha detto il nostro caro amico. Quindi saliamo qua sopra. Forza. Ari. Velocemente. Ok. Ottimo. Siamo di nuovo qui. Intanto qua si può aprire adesso. Sì. E dove siamo finiti? Intanto là c'è chiuso. Andiamo qua allora. Dritti dritti. Dobbiamo cercare la via giusta. Intanto qui c'è una parte. Ah ma dove prima siamo ritornati? No. Ma qui dovevamo andare. Ok. Che lì non potevamo entrare prima. Intanto qua chiudiamo la botola. Se no caschiamo sotto. E adesso qui possiamo entrare. Sì. Perfetto. E tanto che è questa parte qua? C'è del gas. Mi sa che dobbiamo passare quando si spegne. Quindi aspettiamo. Ok. Adesso possiamo andare. No. Che è successo? No. Siamo stati colpiti. Dobbiamo aspettare il momento giusto. Ok. Spegnere che si... Aspettare che si spenga. Quindi dobbiamo essere rapidi e veloci. Però ce l'hai amico? Ok. Manca uno. E adesso ce l'abbiamo fatta. Siamo qui adesso in questo nuovo posto. Ma qui? Chi c'è qui? Delle persone rapite. Ma questo qui è il barista. No. Qui Klaus. L'operaio. E poi hanno aggiunto pure il povero uomo della reception. Intanto qua prove scientifiche. Le dobbiamo trovare sette quindi. Uno su sette. Quando ce ne sta un altro? Due su sette. Ottimo. Tanto qua un altro diario. Sempre scritto dalla stessa persona. Aggiornato. 24 febbraio 1955. Com'è curioso tutto questo? Vivono così felicemente senza capire cosa sta per accadere. Ma bene. Non disperate. Siamo già arrivati. Oggi siamo semplici mortali. Domani saremmo dei che illumineranno il mondo con un sorriso. Mmm. Un sorriso. Inquietanti queste lettere. Qua intanto ci sono disegni di... Qualche roba che stanno cercando di costruire. E qua invece i monitor ci sono. Questi colori. Che mi ricordano tanto la Smiling X Curve. Perché di loro stiamo parlando. Tanto qua ci sta un'altra prova scientifica. Chissà per chi sono questi posti liberi. Forse per i nostri genitori. O forse per me. Chissà. Tanto qua ci stanno gli stessi cassetti che c'erano proprio sul primo e il secondo capitolo. Tanto altre prove scientifiche abbiamo trovato. Quattro. Ne servono sette però. Quindi veloce. Qui è un altro. Ottimo. Cerchiamo altri cassetti qua magari. Senza perdere tempo. Le persone, rapite. Li dobbiamo salvare tutte. Non solo i nostri genitori. Tanto qua stiamo trovando prove di alcune persone. Queste prove scientifiche. Che dimostrano dell'esistenza di una società malvagia. Ottima. Abbiamo trovato tutte. Adesso possiamo andarcene. Però qua dobbiamo fare di nuovo il parkour. Anche se là ci sono delle manovelle. Che adesso dobbiamo aspettare. Ok. Qua possiamo chiuderle. Ottimo. Così il gas non dovrebbe più esserci in teoria. No. Allora possiamo andarcene via qua velocemente. Senza perdere tempo. Allora qua mi sto anche bloccando. Ok. Adesso andiamo qua sotto. E torniamo dove eravamo prima. Andiamo da qui allora. Nella stanza di prima. Adesso dobbiamo ritornare. Dove è l'uomo di colore. Che gli dobbiamo dare queste prove. Quindi andiamoci subito. In questa stanza numero 5. Tieni qua amico. Dottor Peele. Bene. Hai trovato abbastanza prove. Portami la mia borsa. Dentro delle medicine. Una siringa per portelle. Innocuare. Ok. Tanto qua parte un fermato. Che sta succedendo? Ma lì c'era la borsa. Tra qua è arrivato il cattivo. No. Ci ha scoperto. E ha spaccato tutto il muro. Aiuto. Intanto Dottor Peele. È andata ad affrontarlo. Mentre là c'è una persona pure. Che ci ha visto. E no. È stato rapito. Anche lui. Maledetto. Tanto qui si è aperta una stanza. E qua c'è qualcosa di utile. Andiamo un'occhiata. C'era una persona. Prima che ci ha visto. Anche dalla porta. Che aveva una maschera. Chissà chi era. Forse era il fattorino ragazzi. Mi sa. Tanto qui cerchiamo. Non c'è niente in questa stanza. Allora è meglio che usciamo. Questa era la stanza che eravamo prima. Noi. Mi sa. Allora usciamo. Dobbiamo cercare il fattorino. Mi sa. Tanto qui è chiuso. Stancia numero 5. Quindi stiamo molto attenti. Tanta musichetta. Qui c'è qualcuno. Ma qui non c'è più nessuno. La gente è sparita. Sono stati rapiti tutti. Tanto andiamo a dare un'occhiata qui ancora. Dove qua ci sta. Lacciami. Non voglio aprirla. Ma qui c'è qualcuno nella stanza numero 4. Però dobbiamo entrarci in qualche modo. E però c'è questo qui che ci rincorre adesso. Anche. Nemmeno ci ha visto. Ciao amico. Lacciami in pace. Per favore. Ci mettiamo qua dentro. Così non ci può vedere. Ci nascondiamo. Così adesso lui viene a fare il giro. Dobbiamo entrare nella stanza numero 4. Perché lì si è nascosto il fattorino. Mi sa. Tanto ciao amico. Ciao amico. Andiamocene via correndo velocemente. Torniamo quindi qua. Perché qui c'era un'apertura. C'era questa bottola che dobbiamo levare. Ok. Qui abbiamo aperto. E qui ci sta una persona. Eccolo qui. Il fattorino. Amico mio. Dobbiamo parlare con te. Come sei entrato. Beh non importa. Come non importa. Non so cosa stia succedendo. Tanta paura. La gente sta scomparendo. Eh sì. Ho visto la lotta di Dottor Peele con quello strano essere. Non so chi sia. Forse potete parlare con il proprietario dell'hotel. E' nella stanza 3. Ma non vedo da un po'. Prendi questa. E' la sua chiave. Ok. La chiave numero 3 ci ha dato. Mentre qua invece c'è un altro diario. Il 17 febbraio 2046 sono passati un paio di mesi dal mio ultimo scritto. Ma penso di poter finalmente portare qualcosa di nuovo alla mia noiosa routine quotidiana. Ho risolto il problema che ci tormenta da tanti anni. D'ora in poi viaggiare nel tempo è possibile. Posso finalmente tornare indietro nel tempo e cambiare questo inferno in cui viviamo. Quindi è ufficiale. Questo pazzo dottor H.Seldon ha creato la macchina del tempo ed è tornato indietro. E ha cambiato la storia. Tanto grazie per questa chiave numero 3. Se adesso possiamo entrare qui. Ok. Intanto un altro filmato. Che succede? No. Pure lui. Adesso veramente tutti sono stati rapiti. Nessuno si è salvato. Intanto siamo entrati in questa strana strancia. E che cos'è sta roba? Qua dobbiamo risolvere un enigma mi sa. Con calma mi raccomando. Tanto c'è un paccio che ci dà la caccia. Quindi fai come vuoi. Ok. Adesso stiamo andando bene. E' giusto. Dove qui rappresenta il signore con la sua maschera. Tanto è partita una musichetta. Dove qui c'è un'altra stanza. E qui c'è un altro foglietto. Leggiamo pure qua. Qui è stavolta il 13 ottobre 1962. Lo smiling hotel è già conosciuto nella regione. scrittori, scrittori, musicisti, certamente autorità competenti si fermano qui a riposare senza conoscere la verità. Che si nasconde dietro le mure. Io li vedo. Li vedo sempre. Li vedo ridere, litigare. Io vedo loro. Ma loro non vedono me. Non sanno chi sono. E non sanno tutto quello che so. Domani possiamo iniziare con la fase finale del nostro piano. Le macchine sono pronte quindi. Che vogliono essere nostre o meno per sempre. Ma per sempre con un sorriso. Quindi il 13 ottobre 1962 è nata la società malvagia. La smiling x-corp. Tanto qui c'è un'altra foto del cattivone aperto. E bloccato in qualche modo. Quindi bisogna fare un qualcosa qui. Qui posso toccare. Tanto qui tocca lo schermo inserire la stessa sequenza. Ah qui dobbiamo risolvere adesso. Dobbiamo fare come è stato fatto prima. Sequenza 5 siamo adesso. Dobbiamo fare uguale proprio come ci indica qui. Quindi così dovrebbe essere. Sì sequenza 6 ottimo. Dobbiamo ricordarcelo sempre la stessa cosa. Ma poi viene aggiunto un'altra. Ok. E ce l'abbiamo fatta ragazzi. Dove qui è arrivato questo oggetto. Ho l'emblema. Posso entrare in quella stanza serietta e trovare i miei genitori. Ottimo. Quindi possiamo andarci adesso. Sa perdere tempo. Dove c'erano i nostri poveri genitori. Che sono stati rapiti. Ci andiamo subito. Dove si trova qui proprio. Però qui la porta è chiusa. Me l'ho dimenticato. No. Quindi dobbiamo andare in un'altra stanza. Stiamo attenti qua. Che non sbocca il cattivone. Dobbiamo andare nella stanza numero 1. Dove siamo ucciti più prima. Quindi eccola qui. Perché qua ci stava questo passaggio. Ottimo. Adesso possiamo andare. Così possiamo aprire qui. Vediamo un po'. Sì. Tanto c'è un filmato. Papà, mamma. Cosa c'è che non va? Svegliatevi per favore. No. Hanno la maschera. Della Smiling X Corp. La stessa maschera che aveva il capo. Ragazzina non puoi fare niente. Tutto questo è per il tuo bene. Ora tutti sono felici. E servono allo scopo. No. Tanto sta parlando qualcuno. Fatti vedere. No. È una bugia. Ridammi i miei genitori. Maledetto. No. Poverini. Sono stati ipnotizzati. No. Tanto questo qui ci vuole far cadere. Aiuto. Attentari. Maledetto. Poveracci i nostri genitori. No. Per favore. Lasciami stare. Troppo tardi. Siamo tutti una cosa sola. E serviranno allo scopo. Puoi sfuggire al progresso. Vieni ragazzini. Uniciti a noi. No. Io non voglio unirmi a voi. Lasciami stare. Maledetto. No. Aiuto. No. Ci ha fatto cadere. Maledetto. No. Intanto siamo finiti nelle fogne. Fini. Io me lo ricordo ragazzi. Questo qui era abbientato su Smiling X2. Quando si iniziava il gioco. No. Siamo ritornati qua. Dove poi c'era Hunter. Il cacciatore che ci dava la caccia. Quindi finisce qui. Fine. No. Quindi è un brutto finale. Smiling X0. Non siamo riusciti a salvare nessuno. Tutti sono stati rapiti e ipnotizzati. E tutti quanti sono diventati cattivi. Così nel 1962 è nata la Smiling X Corp. La società malvagia. Quindi ragazzi. Questo Smiling X0 termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando. Spoliciate. Commentate. Condividete. Iscrivetevi al canale. Con la campanella attiva. Noi ci vedremo in un prossimo video. E quindi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.